Il comune di Feltri ha ufficialmente reso nota stamane a Palazzo Bizzarini la propria adesione alla proposta di candidatura del massiccio del grappa e delle aree con termini a riserva di biosfera UNESCO. Anche la città murata diviene dunque una delle 25 realtà comunali suddivise fra le tre province di Belluno, Treviso e Vicenza ad aver manifestato il proprio interesse per ottenere l'ambito riconoscimento da parte dell'UNESCO. Tale candidatura è stata promossa alcuni mesi fa dall'IPA, Intesa Programmatica di Area Vasta, Terre Asolane e Massiccio del Grappa. Più di uno potrebbero essere i risvolti positivi della possibile candidatura. Un'ottima occasione di collaborazione intanto con le nostre province con termini di Treviso e di Vicenza e quindi con una rete breve di valorizzazione. Poi ci permette di essere parte integrante di un eventuale riconoscimento UNESCO per l'integrità del nostro territorio che ricordo è soggetto a essere parte della rete in natura 2000 per il 51% del territorio e circa il 20% siamo coinvolti nel Massiccio del Grappa che sarà l'area cuore di questa proposta assieme agli altri comuni appunto delle terre asolane e dei comuni della provincia di Treviso. Tra i soggetti istituzionali che hanno già dato il loro appoggio all'iniziativa vi sono il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la Camera di Commercio di Belluno e Treviso ed il Consorzio Dolomiti Prealpi. La candidatura a riserva di Piosfera, fanno sapere dall'amministrazione comunale, non prevede per le aree coinvolte alcun livello di tutela o vincolo ulteriore rispetto a quelli già esistenti, ma rappresenta un'opportunità sia nella valorizzazione che nella riconoscibilità di ogni singolo territorio in vari ambiti, sia nella creazione di sinergie con le altre aree di riserva. I prossimi step della candidatura prevedono da parte degli aderenti la stesura di una strategia condivisa che sarà inviata per la validazione ed eventuali integrazioni al Ministero dell'Ambiente. La documentazione passerà quindi ad un'ulteriore approvazione, in questo caso vincolante, ai consigli comunali coinvolti per essere poi inoltrata all'UNESCO per l'approvazione definitiva. L'ITER dovrebbe arrivare a compimento entro il 2021.